Bentornati nella splendida cornice, il programma più cool del servizio pubblico, ma la fai ancora servizio pubblico, questa e altre domande ci vorremmo questa sera in una versione possiamo dire di parla con me di via mecenate ma con degli ospiti straordinari, Francesco Piccolo, Sandro Emilo, il critico d'arte Francesco Bonami, Maurizio Classico, Fraim Matano, Fabio Fazio, Federico Fellini e poi comicità, satira, cultura, competenza, divertimento ma poi anche Giuseppe Antonelli mi dicono e poi Costituzione, Cotonature e soprattutto Amalia Ercoli Finzi, una sicurezza, ma io direi di entrare nel vivo del programma, programma peraltro che non hanno ancora interrotto stranamente, ma questa sera ci sarò io e cercherò di fare del mio meglio, per chiudo in bellezza se non altro. Ah, il calore dello studio, Amalia, meraviglia, pubblico caldo, nonostante sia riciclato da Fabio Passio! Passa? Anche meno, se qualcuno sviane lo veniamo a prendere ma adesso cominciamo con un momento molto importante, con un'intervista profonda, particolare a un astro diciamo sempre nascente, sempre in orbita, speriamo che dopo questa sera non si fermi a mezz'aria. Pensate, è venuta direttamente dalla Sardegna, mi dicono col traghetto, Gepi Cucciari! Che onore! Guarda, non sai come sono felice che sei venuta nel mio programma. No, veramente benvenuta a te, guarda, proprio realizzi un mio sogno, quello di sedere in questo divano insieme alla regina delle interviste, ma non solo delle interviste, della satira, ma di più, di Rai 3. Anche meno. Maria Giuseppina Cucciari, detta Gepi, ha studiato a Macomere, ha frequentato le figlie di Maria Ausiliatrice e ne porta ancora i segni. Si vede questa cosa evidente. Ma dal tono di rossetto in particolare. Guarda, tu sottovaluti suor Pierina e la sua vaghezza e anche la sua solidità, insomma, la mia suora delle elementari, dell'asilo, ha sicuramente influenzato la mia crescita come donna, come giocatrice di basket, come essere umano e come subretto. Non volevo toccare il basket, non sapevo che giocavi già dall'asilo. Complimenti. Si, si chiama avviamento allo sport e da là io non ho mai smesso. Ma scusa, posso ricambiare? Sì, prego. Visto che siamo qua insieme, posso ricambiare? Cioè, tu intervisti me, a questo punto io intervisto te, facciamo una battle di interviste. Una battle? Parla con Serena contro parla Gepi. Parla con Gepi, parla con Serena? Sì. Vabbè. Allora, anche se ho delle domande per te. Scusa, eh. Perché ne abbiamo proprio le... siamo... Sorellanza. Allora, tu mi sei contessa. Come contessa ti riconosci di più nel tuo stemma nobiliare, tre stelle e un euro rampante o nella canzone di Petrangeli, compagni dai campi e dalle officine? Ecco, intanto contessa decaduta. Ma mi sa che pure la canzone è decaduta. A me è decaduta, mi hanno detto, la batteria del microfono. Ah, è decaduta e però tu la tieni in posti... Io la tengo nella coscia. Non lo sapevi? Questo però... Allora, io invece ho una domanda. Perché se no si tiene nella schiena, fa quell'effetto... Ah, si sente? Si sente. Quale gobba? Gepi Cucciari. Postura, postura. Gepi Cucciari si laurea in giurisprudenza ma abbandona la carriera di notaio e quella di atleta di pallacanestro così, di botto, insensatamente per dedicarsi alla comicità. E dichiara, se scegli il mestiere del comico c'è qualcosa che non va nella tua testa. Lo hai capito finalmente cosa non va nella tua testa? No, devo dire che la tua biografia, la mia biografia nelle tue mani, diventa inquietante. In effetti, quando uno sceglie di fare un mestiere che è un aggettivo, c'è qualcosa che non va. E fare la comica e non c'è niente di più evanescente che è una cosa che ti è riconosciuta dagli altri. A un certo punto però decidi che vuoi fare compagnia agli altri con un sorriso. Io questo l'ho deciso quando ero piccola, quando fui, quando fu... Quello sta scrivendo, ma l'hai letto. Quando è... Quando è... Quindi... Ebbi. Ebbi, una giovanissima età. Volevo, andavo a teatro e dicevo io voglio... Sentivo quell'odore di polvere che c'era nel teatro. Tu sai che questo è vero? È una cosa... L'odore di polvere del teatro è la cosa più bella che c'è. E anche posso dirti un'altra cosa che tu, avendola hai fatto, un anologo meraviglioso di Mattia Torre, perfetta. Voglio ricordare sempre. Così. Un po' so. Ancora in scena, peraltro. Un po' so. Ancora in scena, peraltro. Non lo sapevo, ma vedi che ho fatto bene. Quella cosa, la polvere è quel brusio prima di entrare, quel rumorino del pubblico. Quello è bellissimo. C'è una cosa del pubblico che io continuo a non spiegarmi. La tosse. Perché c'è gente che tossisce durante gli spettacoli teatrali. Io lo so, verrebbe a volte da distribuire delle mentine, del cortisone anche. O anche dei coppini. Perché comunque quel colpo di tosse, sappiatelo, è bellissimo che voi andiate a teatro. E purtroppo i cinema non si sono riempiti, ma i teatri sì. Perché? La gente va a tossire a teatro. E ogni colpo di tosse qua, dentro di me così, dentro la mia testa, riecheggia. È un'esperienza umana, come si tossisce a teatro. O come si tosse. Vedo che qua c'è, no? Vabbè. Guarda, è un'angoscia. Andiamo avanti. Con l'uppetto da esistenzialista. Tanto non lo sa. Andiamo avanti. È il tuo turno. È il mio turno della domanda. Se vuoi. Si parla di esordi televisivi. Allalà. La tua prima apparizione in tv è... Cavallo. Non si può dire cavallo in Sardegna. È cavallo... No, non è cavallo la mia prima apparizione in tv. Però, se vuoi... È Obladi Oblada. Nella RAI 1985. Sì. Adesso non so se ti faccio una gentilezza o no, ma comunque... Lo rivediamo. Sei una vera infame. Bene arrivati a Obladi Oblada. Anche questa sera abbiamo pronte per voi immagini, notizie e racconti dalle nuove capitali europee. Allora, innanzitutto... Beh, le techerai sono frutto di grandi soddisfazioni. Innanzitutto, immagino conoscendoti che tu non ami rivederti. Sembro mia figlia. No, io non mi rivedo mai. Però mi fa tenerezza perché sembro mia figlia. Cioè, quelle cose che dici... Ma allora, vedi... La treccia. Quella treccia che non c'è più. Allora, quella treccia non c'è mai stata. Era finita. Questa è la vera verità. Era posticcia. Allora, io venivo dalla radio dove era una donna felice, come tu ben sai. Dove, no, stavo con i capelli dritti, vestita con le sneakers, eccetera, eccetera. Era invece televisione a Milano. Televisione, che ringrazio Paolo Giaccio e Romano Frassa, due colonne della Rai, che vanno sempre ringraziate perché veramente hanno fatto programmi importanti in questa bellissima azienda. Però Milano, Milano di tendenza, io insomma mi sono trovata un po' spiazzata. Ma che te l'ha visitata quella? Andava di moda a chadè. Andava di moda a chadè. E quindi mi hanno detto mettete questa treccia, vedrai che farò. C'era tanta polvere, anche quella a Milano lì, ma era un'altra polvere, secondo me. E quindi mi tiravano sti capelli un male, capito? Sì, perché è vero che poi ha gli occhi stuporosi. Mai perdersi. Mai perdersi per una treccia posticcia. Allora, lei cita spesso, tocca a me? Sì, tocca a te. Una frase di... Ah, abbiamo pure quello, bello. Sì, lo metto adesso, abbiamo pagato dei soldi per leggiare. Però faccio così. Ecco io, a questo punto, alla torre. Lei cita spesso... Ah, hai mangiato, sei automangiata. Lei cita spesso una frase di Thomas Edison, che dice il genio è per l'1% ispirazione e per il 99% traspirazione. Ha ancora questi grossi problemi di sudorazione? No, ci sono prodotti specifici che noi le possiamo consigliere. E ringrazio anche la cipria, anche qua. La polvere è quella che è protagonista in questo caso. Ma è una frase importante che vedo che ritorna. Perché, boh, non lo so, ma tra l'altro non l'ha detto Einstein. Notaio, che dice il notaio? Non ce l'abbiamo notaio, il notaio si paga caro. Quello è laureato. Ma lei è laureato? Costa troppo? Sì, sì, sono laureato. Ah, laureato. In cosa? In lettere. In lettere. Moderne, antiche, medie. Lettere moderne. Moderne. Sì, sì. Questa frase di chi è? Me la puoi ripetere che ero distratto? Eh, vabbè. Come a scuola. Ma lei non è il professore. Scusi. Dietro la lavagna. Subito. Il talento è 1% ispirazione, 99% traspirazione. Chi l'ha detto? Io l'ho sempre saputa come frase di Edison, però... Ah, quindi mi confesso. Ma senza neanche controllare. Il notaio conferma. Ma lei è notaio? È laureato. Però, suppongo. È un voto basso in lettere. Grazie. No, no, ho preso un voto anche alto, però suppongo sia di Edison, poi sarò smentito, probabilmente. Ma comunque, c'è anche un bel aspetto, diciamo, che c'è ragione. Eh, perché è seduto. Poi si alza. Se vuole mi alza. Come rimane uguale? Se vuole mi alza. Come conosce lei il suo pubblico? Ma non è il pubblico, lo paghiamo, è uno del cast. Ah, sì, sì. Ma sono loro che non vengono pagati. Lui lo... È pagato? È pagato. Sì, ma... Cioè, la paghiamo? Poco, ma la pagate. Sì, mi pagate, ma forse la signora Dandini non sa che a me piace quando lei mi tratta male. Io lo faccio sapere. Io o Geppi? No, lei, signora Dandini... Ah, sì, ma perché insieme è una combo non male. Non sa... Eh, sì, beh, voi siete... Ma guarda, ti trattiamo male volentieri insieme. Grazie. Ma secondo me non siamo le prime e né peraltro saremo le ultime. Comunque, sì, sono convinta che la fattica, sai, mi porto... presso la mia formazione di giocatrici di basket, in settimana ci si allena e poi un giorno arriva la partita e ti produci un avvicendamento che prevede una preparazione. Ah, a proposito di allenamento, sappiamo che lei si sottopone perché quando c'è la domanda c'è il lei, no? È un pochino più... Sì, più... Poi torna a distanze. Sì, poi... Hai messo pure il cuscinone che di solito stava qua. Vabbè, anche perché ci mettevo... Questo è il mio divano ci mette... Voglio distante tra me e te. Ma lo sai che ci sono ancora dei fogli di un'intervista a Tarantino. Perché questo divano è il vero divano di Serena Dandini. Sono pazzi. È arrivato da Roma, l'abbiamo fatto arrivare da Roma per farla sentire a suo agio. Non buttare i cuscini così comunque. Ballo, mi prendi il cuscino, per favore. Diciamo che lei si sottopone a degli sfibranti allenamenti in palestra e ha dichiarato come combatto una battaglia per tenere su i glutei, combatto una battaglia per tenere sull'anima. Quale delle due sta cedendo? Beh, i glutei hanno iniziato a cedere da qualche anno, ma l'anima non cederà mai. Amore. E questa è la geppi che noi amiamo. È la geppi di cui abbiamo bisogno. Un'altra domanda per te. Il tuo primo compito in Rai è stato fare il facchino. Poi le cose sono... Non è vero? Non l'ho mai visto. Non ha mai fatto il facchino? No, portavo dei dischi dai sotterranei della Rai, ma tipo Trello on plane. Il fattorino. Ah, il fattorino. Il facchino mi piace molto bello. Il facchino? Non ha il fisico. Qua saltano delle teste. No, però è bello. Ma chi è che scrive le biografie dei miei ospiti? Ok, facchino. Il facchino. Il fattorino. No, il fattorino. Poi le cose sono precipitate. Perché hai perso quel lavoro per guadagnarne un altro. Qual è stata la tua sliding door? Allora, sai come penso, e questo sarebbe bello anche chiedertelo a te, nel senso che c'è sempre qualcuno, ed è importante che ci sia nella vita di giovani così un po' idealisti, sognatori scapestrati, che sognano di fare delle cose nella vita, qualcuno che crede in te. È quel momento meraviglioso. Il primo che crede in te. E che comunque vede e intravede un talento, una traccia di qualcosa, e ti dà la possibilità magari di provarlo, di portarlo avanti. Ecco perché a me piace moltissimo, nel mio lavoro, la parte di talent scout. Che è quello che fai adesso. Sì, perché non lo smetto mai di fare. Perché comunque quando vedi quella lucettina del talento, dare una possibilità a un palcoscenico, un piccolo raggio di luce. Parliamo di teatro, infatti tu sei a teatro con uno spettacolo, dove tu hai fatto questo. Vieni avanti cretina, è ancora in teatro in questi giorni. No, in questi giorni no. Vieni avanti cretina, è appena finito le sue date in teatro. Però continuerà. Però continuerà dopo l'estate. Sì, diciamo così. Forse. Insomma, stay tuned. Bello comunque, uno spettacolo teatro dove tu sei la direttrice artistica, la capocomica. Sì, è molto bello, perché ho riunito vari attrici, ne vorrei tantissime, ma insomma più di sei, sette, otto, ma in un certo punto mi dicono fermati. E è una provocazione, è un gioco, dove io dico bisogna avere la parità anche nella cretineria. Non ho capito perché noi donne dobbiamo sempre dimostrare a tutti i costi la nostra intelligenza. Gli uomini possono essere allegramente cretini, ma nessuno mette in dubbio l'intelligenza. Noi siamo costretti a fare monologhi le due di notte, quelli un po' pesanti a Sanremo, per dire perché io sono intelligente, no? E quindi rivendico una parità nella stupidera e nella cretineria. In realtà i monologhi sono molto profondi. Anche. Anche. Beh, in effetti ti faccio una domanda che ti avranno fatto tante volte. In fondo noi siamo delle splendide cretine, no? Siamo delle splendide cretine da tanti anni, cretine. Noi fatturiamo la nostra cretineria da diversi anni e ci paghiamo l'affitto con essa. Però avranno chiesto anche a te questo. Perché ci sono così poche donne che fanno questo mestiere? Io ho notato che anche in partenza numericamente sono di meno, se ripenso ai miei esordi. Tu hai scoperto tantissime donne comiche, grazie ad avanti. Eh, ma no, ma la tv delle ragazze, la prima, poi l'abbiamo rifatta, no? Trent'anni dopo, però la prima tv delle ragazze è più di 33, 4 anni fa, non so che cosa. Sembrava che il senso di humor, no? Quando abbiamo parlato di questo progetto, per fortuna c'era un mentore come Angelo Guglielmi, grande direttore di Rai 3, che quando gli abbiamo portato il progetto ha detto non ho capito bene che volete fare, ma vedo la passione, fatelo. Una cosa più bella di questa, capito? E all'inizio si pensava che il senso di humor fosse un attributo maschile. Quasi come, no, hanno il senso di humor, le donne invece non ce l'hanno. Invece, appena abbiamo cominciato a fare provini, no? Che poi non c'erano internet, non c'era niente, per cui si andavano i teatri, il passaparola. E c'è stata, come dire, una valanga di... È come se avessi messo, no, perforato il terreno e è uscito il petrolio. Quindi in realtà le donne stanno per ridere, volevano per ridere, non avevano un palcoscenico. Quindi è stato bellissimo, no? Fai così? Questo non lo so perché l'hanno messo. Ecco, anche così, brava. Ha esclamato stupita, io in un programma di cultura, forse hanno sbagliato persona. Gliel'hanno mai detto chi lo doveva presentare? S'è saputo poi? No, guarda, io... È una tua dichiarazione, non potevo resistere. Ci sono, a volte, le occasioni si generano attraverso dei malintesi. È un malinteso che ho cavalcato e mi ha detto, vuoi fare un programma con la cultura protagonista? E io ho detto, no. E loro, dai, fallo. Io ho detto sì. Hai fatto bene. Comunque bisognava farsi desiderare per poi arrivare. Ho detto no con due secondi. Comunque, parlavi di avanzi? Comunque la risposta era Magalli. Era Magalli. Magalli. La risposta esatta, nottaglio che dice Magalli la risposta esatta. Corretto. Mi piace che ci sia. Confermo, confermo. Ma non è un nottaglio. Adesso lo è, stasera lo è. Che ti importa? Almeno per oggi. Ecco. Avanzi. Abbiamo parlato di tv. Ragazzi, avanzi. Allora, l'ultima puntata di Avanzi, il mitologico show che tutti noi abbiamo amato, è andato e no, andato un po' di anni fa. Vediamo un piccolo... No, dicono 30 anni. 30, 30. Vediamo un film. Ma io ero a 12 anni quando l'ho fatto. Sai che ero un adolescente attempata, no? Avanzi. Sì, come... Vediamo, vediamo qua quanti anni. Quando avevi 42 anni. 12, 12, 32. Nessuno fino ad ora sapeva cosa si nasconde sotto la Rai. Benvenuti a Avanzi, il primo programma che raccoglie tutti i rifiuti della tv. Chi non salta in ero azzurro? Le posso dire la mia tattica di gioco? No. La ringrazio. Me la posso dire da solo? No. Vi è qualcuno all'interno. Venga, venga, venga pure da questa parte. Ma chi è? Come chi è? È Maciovileda, no? Il signor Antonio si è svegliato dopo 20 anni ascoltando le note della sua canzone preferita. È vero? Qual'era? Si dica. Compagni dai campi e dalle officine. Io amo veramente tutta la classe politica senza nessuna distinzione. Amo tutta la sinistra democristiana. Amo tutta la corrente d'Orotea. Amo tutti i socialdemocratici dal primo a lutto. Tutti, però. Tutti quanti. Un applauso, signori! Perché secondo lei tutti la condannano a morte e al tempo stesso la considerano buono. Purtroppo sono le contraddizioni della società moderna. Vai, con la sigla! Fermo il fotogramma! Questo è il finale. No. Il finale! Il finale! La 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 la! Ma che meraviglia! Ma che meraviglia! Corrado Guzzanti, Francesca Reggiani, Sabina Guzzanti, Crozza Leone, Maurizio Crozza. Hai visto che carino? Il cast è incredibile. Ma te lo farebbero rifare oggi? Il notario? Confermo! Non lo so. Non conta nulla. Non lo so. Non lo so. È un'altra epoca. Sai, io lavorando, abbiamo detto 30, 35, 40, so quanti anni che comunque ho lavorato per lo più in questa azienda che io amo. E saranno passati, credo, ora ho visto una venticinquina di direttori giornali. A me mi fa paura niente, come lo puoi capire, eccetera. Perché quando ne vedi tanti, di tutti i colori, di tutte le tendenze così, è che per fare questi programmi però ci vuole un po' qualcuno appunto che ti creda in te, che duri. Mi sembra che è un momento un po'... E che tendono ad alternarsi. Tendono ad alternarsi, bravissime, hai capito? Ne sono cambiati tre durante questa intervista. Chissà chi sarà alla fine della puntata. Ma, 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 ho un'ultima domanda. Sì, te lo prego. Felina, o parafelina, o paracula, come vuoi. Questa si fa sempre alla fine, no? Sì. Alla fine si fa sempre perché se tu vedi che non hai ottenuto... Perché non hai ottenuto? Aspetta, devi ottenere... dove devi arrivare, no? Devi arrivare... Di botto fai una pausa. Spai quei primi piani che si... Fai primo piano a lei, fai primo piano a lei. Mai troppo primo piano. Fai una pausa, guardi il tuo intervistato e speri che faccio... Eh, bravo. Geppi, l'ultima volta che hai pianto. Stamattina! Non sapevamo niente una dell'altra. Grazie. Grazie. Grazie.